A un faccio a tutti ragazzi, bentornati, qui a Caloo e bentornati in un nuovo video, bentornati nella serie, bentornati Sto cane fatto il suffetto perchè cane Snaghino sta andando a farsi proprio fottere Ok A soli 13 anni, sguardo dolce affabile anche un po' timido ma con tanta grinta dentro E la nuova stella della danza è un nuovo talento tutto alcamese Ma al di là della sua promettente carriera da danzatore c'è una cosa che tiene a precisare Mi sono cagato sotto Come nasce la passione per la danza? Beh, da piccolo io già ballavo, un giorno mia mamma mi ha visto e quindi ha deciso di portarmi a danza E io da lì ho deciso di continuare